«Salve, il mio nome è Franz Kafka. Sono uno scrittore e solitamente per staccare un po' da tutto con la mia compagna vado sempre a fare due passi qui giù al parco. Finché circa tre settimane fa incontrai in una panchina del parco una bambina che piangeva di rotto. Allora io le dissi subito «Piccola, cosa c'è che non va?» E lei, con la sua vocina straziata, mi disse di aver perso la sua bambola brigida. In quel momento rimasi così scosso da quel dolore infantile che mi offrì subito di aiutarla, la cercammo in giro, ma niente. Allora le dissi «Non preoccuparti, io sono il postino delle bambole. Quando tornerò a casa cercherò con attenzione tra le lettere per trovare quella di Brigida. Sono certo che ci sarà. Così domani te la porterò». Sono trascorse tre settimane e per me è stato uno sforzo letterario enorme portare ogni giorno la piccola Elsie e leggere assieme a lei al parco le lettere di Brigida. Le ho raccontato che Brigida aveva fatto molte esperienze, viaggi, avventure, incontrato persone e che la pensava spesso anche se presa dalla sua nuova vita. Negli ultimi giorni credo che Elsie abbia capito di averla persa per sempre e a non soffrire più la mancanza di Brigida incantata dai miei racconti. Ma domani le ho detto che sarà l'ultima lettera. E sono qui. carta e penna che penso con attenzione a cosa scrivere. E non è facile davvero. Cosa dire ad una bambina così piccola che ancora non ha maturato esperienza sulla perdita, sull'assenza, sulla mancanza? Generalmente sono situazioni che i ragazzi iniziano ad esperire nell'adolescenza con i primi amori. E due sono le risposte. Le menti piccole cercheranno subito di sostituire quella persona scaricando le delusioni e l'amarezza e cercando di lasciare le stesse ferite agli altri. E via via, a catena, sempre più corrotti dall'esperienza verranno fuori degli imbecilli che non credono in nulla. L'altra risposta di un giovane cuore deluso e ferito per la mancanza e l'assenza sarà quella di rimettersi in piedi più forti di prima, avendo elaborato che se sei capace tu di fare la differenza, allo stesso modo per cui esisti tu, esisteranno anche altri. Ed è proprio per questo che non bisogna mai smettere di credere. Come faccio a far indagare tutto ciò nel modo più semplice possibile ad una bambina così piccola? Devo cercare di superarmi. La perdita, l'assenza, la mancanza sono cose che ci accompagneranno per tutta la vita. Ed elaborarle nel modo giusto è un dono che appartiene alla bellezza. Dirò a Delsi che Brigida è tanto felice perché sta per sposarsi. E se Brigida è felice deve esserlo anche lei, si risponde sempre con gioia, perché la felicità è condivisione, sincera e sentita, e ciò che ci salverà nella vita sarà soltanto l'amore. Quindi le regalerò un'altra bambola, che essendo diversa da Brigida nell'aspetto, rappresenta una nuova, unica, bella esperienza da vivere. Infine nasconderò da qualche parte nella bambola una striscetta di carta con un messaggio. così magari quando Elsie sarà grande troverà questo messaggio e penserà alla bambola Brigida con un sorriso. Grazie a tutti.